Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale SM News Crew oggi siamo qui a fare una reaction del QVC8 di Jamie Tiles che ha fatto uscire tantosai traccia e le altre le farà uscire successivamente per noi in questo momento facciamo una reaction sola a queste che le ha fatto uscire su Spotify quindi le sentiamo le altre e se ci sono l'occasione di farle le faremo quando poi usciranno usciranno tutti quanti in free download o su YouTube beh, è un'artista che io personalmente mi piace non è uno di quelli che mi ascolto tutti i giorni però quando c'è da ascoltarlo io di solito non mi dispiace sentirlo voi invece cosa ne pensate? io sono nella stessa sensazione non dispiace a nessuno io l'ho ascoltato tantissimo così anni fa sì, c'era tempo un po' di tempo fa l'ho ascoltato tanto, adesso un po' di meno perché ancora troppo però comunque è sempre piaciuto quindi la prima traccia di questo QVC8 Thorado non è un po' di tempo è un po' di tempo non è un po' di tempo ma è un po' di tempo Ma stiamo arrivando a US$%&%&%$%$%$%$%&%$%$%$%&&%$%%$%&%$$%$%%%$%$%$%k$%$%$$%$%$%$$%.$%ha Campione a FFG è stato 21$$%&%$%$%$%$%$-%$%$%$%$%$%$$%$%%$%$%$%$%$%$%$%$%$$%$%%$%$$%$%$% Vabbè c'è ma più 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 più, più 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 E' un'altra traccia, ma è carina. Di sicuro correva. Correva perché scappava dalle nuove. Secondo me perché è la terza che non va. Vabbè, prima traccia era carina, non posso dire nulla, la prossima è Bad Boys Fit che stava a 126, quindi se ne andava a sentire, se era una roba per me abbastanza aggressiva. Tu che dici? Articolare. Beh, non si metti la beat, proprio no? Eh, se vuoi prendere proprio il beat con il basso, lì. Lei non vuole stare con te, no no. Vuole un Bad Boy che la smuova un po' Proprio quello lì, hanno sempre usciti da Cernobili. Oh! Non c'è la piazza, non c'è la piazza. Non c'è la piazza, non c'è la piazza, non c'è la piazza. Lo sono un po' perso, dopo tu vai lì, speriamo bene, speriamo bene. E' un po' perso, dopo tu vai lì, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Sì, speriamo bene. Sì, speriamo bene. La trassa è finita, a noi sinceramente mi è piaciuto di più Priestess e gli altri due. Oh, io mi piace. Sì, sì. Jamie Tyson, il fatto della solita roba in 40, avrebbe avuto bene, mi sembra che un po' perso, non lo so. Spezza le parole. Sì, però, è caldo. Sì, sì, ovviamente bene, aveva avuto dei veri discambi, però ci sarà in un battito di Priestess. Sono molto bene. No, no, allora, al livello di testo sarà bella, a livello di musicalità. No, no, a me piace. Più la musicalità che la bananità del testo. Ti piace di più come la nostra? Sì, il beat, perché mi sartì. Poi magari sono anche uguali, però sono per particolare anche con il suo... L'ettonador della voce, col timbro di voce, secondo me, cioè il suo... Questa qui secondo me è la più testa, la musicalità secondo me è la più testa. L'ettonador della voce secondo me è la più la migliore. Sì, sì, sì. L'ettonador della voce, l'ho già fatto uscire, però non mi aveva ancora sentito, perché c'ho sentito la prima parte invece di... Perché c'è Franco 126 e Benerius. Però, pensa di me. Quinta traccia. John. Dun 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 dun... Dove mi che è? Se questo non è il cover. Guarda, guarda, qualche parte ti ha sentito. Già la filasa. Già la filasa. Già la filasa. Già la filasa. Già la mia mano, quanto ti devo esaurare. Ma le seri tendono in normalità. La pari nostra non sono. Ma per i tu sai come sono. Oprimiamo tutti in un giro. Per mi dare alla brava darte. Un po' peccato, tempo spregato. Stavo ad un passo diviso in soltanto. Non vedo specchiato, un respiro spezzato, un bicchiere scheggiato. Non so dalla moquette. Ma sta rotta. Lascio in proche. Su una strada di porvere. E le ho tutte le mie puggie. Per non restare senza di me. Senza di me. Ci posso stare perché questi due qua che non conoscevo hanno una bella voce. Ma sono tì. Però, sì, non che si distaccano dal solito rap, quindi... Sì, ma hanno una bella voce. Sì, ma hanno una bella voce. Sì, ma hanno una bella voce. Ma non mi piacciono quelle che c'erai più che no. Ma non ti vedi acuti. Sì, sì. Sì, perché non sono il classico rapper che non sanno. Bella, 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 bella. E che dici? Dico, dico bella. Bella, bella roba. Bella, dai. Bella roba. Ci vediamo con Roland che era già uscita qualche mese fa, appunto. Poi di tempo fa. Vabbè, tu l'hai già sentita Roland? Io sì. Beh, anch'io. Mi ha avanti un passaggio per sentire. Mi piace il motore della larga. Io dico da andata su sui treni per lo fa l'Italia. Stando qua, da sempre, dando le medaglie a chi sbaglia. Ogni tuoi versi pagano più tassi giuro. Mi piace il motore della larga. Come un applauso? 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 Vabbè, Roland finita. La seconda parte a me piace un po' di vedere le rime di Roland. No, a me piace anche. Anche se è assoluta roba della calm, però... ricorrente. Ho finito i QVC8 singles che sono quelli che ha caricato su Spotify, mentre invece gli altri non li ancora fatti uscire, ma penso che usciranno in giornata o al massimo alla prossima settimana. Ci speriamo. E infatti io invece sono incontento, anche io brammo. È più bella, cazzo, Teddo. Va bene, facciamo uscire questa prima parte, poi quando uscirà le restanti 12 tracce faremo magari altre reaction oppure vedremo un po' cosa fare. Tanto per ora è sufficiente. Sì, un po' magari senti la similitudine tra le altre canzoni, però sempre lo carino. A me due hanno colpito, il resto... Quali? Tornadol e Senza di me? Sì. Sono anche quelli che secondo me sono un pochino migliori. Anche se giuro che c'è il Firtual Episys che non mi dispiace, che ci faccio non è più da tanto, Bad Boys, solita roba. No, però l'ho già sentita perché non è che mi faccio troppo impazzire adesso. Però lo aspettiamo mentre. La ricorda di città. Ci vediamo al prossimo video. Eccola di te. Eccola di te. Eccola di te. Ciao ciao.